Ciao ragazzi, bella per tutti! Benvenuti su Gamescore.it, sempre in compagnia del vostro Andre Rockfort della porta accanto e oggi ci troviamo a fare il video gameplay di Atomicrops, in uscita proprio quest'oggi su PC via Epic Games Store, Nintendo Switch, Playstation 4 e Xbox One Il gioco verrà distribuito proprio quest'oggi da Raw Fury, mentre è stato sviluppato da Birdbath Games e il gioco, se lo potete sapere, come potete leggere, è in italiano, quindi se non masticate l'inglese per qualsiasi motivo, già che in italiano è troppo top Ecco, già da paura a sta cosa Allora Il gioco, ovviamente, è un farming simulator, però con elementi roguelike I roguelike, cioè, tipo troppo li adoro Cioè, tipo troppo Ascoltami, top di città, perché te lo dico una volta sola? Per vivere servono i soldi Grazie Per avere soldi devi vendere i raccolti Scusate, per i raccolti servono i semi Sembra tipo a casa Cosa, vabbè Avete capito? No, non avete capito, però bene Allora Ora Sporcati con le manine delicate Zappa il terreno per inventarci i semi Accidenti Ok Allora, te ne ho premuto ZL Allora Easy Pazza che sto a piantare Allora, l'avevo messo io bene Ok E adesso, ovviamente, sto raccogliendo le patate Non sai cosa fare Una mica roba da cervelloni Sveglia, vai, prende un po' d'acqua dal pozzo Anzi, no Le stavo piantando Scusate, sono scemo Va bene Avete, in realtà, hai una pianta Una pianta a casete Non cresce Perché se non ha il naffi Giustamente Pensate che figata, ragazzi Ok Usa un piccone per estirpare l'erba Più terra, più fattoria Più raccolti Accidenti Non sa proprio niente Allora, te ne ho premuto sempre ZL Quindi così posso flexare Me i flexo qua So flexare Posso Senti che puzze raccolti concimati valgono di più Vuoi fare i soldi con la fattoria, no? Senti che puzze raccolti concimati valgono di più Ah, ok Questo qua è un Allora, quindi le devo concimare Quindi Tieni per il modo A Vabbè, certo Allora Non perdere tempo e vai a cercare altri semi I tuoi raccolti stanno bene Finché non cala la notte Perché adesso Vi spiegherò pure che cosa bisognerà fare Più avanti Ok Il sole è quasi tramontato principiante Torna a casa e difendi la totera Non ci sei solo tu a voler mangiare qualcosa Oh, regà, che era? Oh Oh, ma ve levate? Che mi venga un mazzo Un mezzo colpo Il tuo pollice verde funziona E hai dei raccolti pronti Yeeey Con la B Li raccogliamo Uh A quanto pare te la sei cavare dopo tutto Ti lascio fare allora Non preoccuparti Qui non ci sei mai niente di brutto Oh my gosh Regà, oh my gosh E questo qua Dove essere il tutorial Ma che è? Ah, oddio Ho detto ma what? Cambio personaggio Vediamo un po' Lavander Abicoltore Tutti i raccolti crescono più veloci Vabbè, oggi ci sta Dai Ci sta Qua non ci sta niente Qua pure il vuoto cosmico Vabbè, nuova partita Dai Primavera Yeeey Allora Come dovete ammirare il gioco C'ha una grafica un po' pixelosa Un po' così Caruccia Che non mi dispiace Colori sono molto sgargianti Ok Ehi, ciao apine Allora, devo raccogliere i semini Patate Li piantiamo Cominciamo a flexarli Ok Oh, ma che Ma che era? Oh Oh, ma chi è? Oh, ma chi siete voi? Ma levate tu Oh Ma che cavolo volete? Oh Beh, se giustamente non le pianto Che Oh, ma Vi dovete da levare Oh Vi dovete da levare Devi levare tu Levate Vi dovete da levare Tutte e due E Andate a mangiare In un'altra parte Diece Dai, namo Ma che è? Oh Ma che è? Ma che sei tu? Vai Ma che è sto coso? Ma che sa? Ma, eh Ok Allora, prendiamo altro po' d'acqua Ma che sei a fa tu? Ma che sei a fa? Vai Ehi, ma che stai facendo ragazzi Oh, ma guarda Oh, ma guarda Defend your crops Yeah La voglia se lo faccio Regà 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 Questi sono It's my life Oh, oh Eccoli Oh, ma tu Ma Oddio, ma Oh, my gosh Regà, ma la musica Che figata Oh, oh, oh Levate tu Levati Levati Lasciali Lasciali stare Levati pure tu Levati Conigliaccio O meno Eccolo Eccolo Levati tu Da quante conigliaccio Oh, oh Aia Aia Levati Levati pure tu Oh, 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 oh Tu pure Oh, questi sono Pericolosi, eh Ok Oh, ma quanti sono Oh, oh, oh Calmi Ma andò scappi Dove scappi pure tu Oh, 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 oh Lasciali stare Yeah Fra poco è mattina Ragazzi Sì Che bello Ah, ecco che era Quel simbolo Ah, quindi li posso Raccogliere Così, pensa un po' Sono scemo Torna in città Tra due Uno Yeah Ok Vabbè, sicuramente Non ha fatto niente Perché Oggettivamente sono Un deficiente Non ho raccolto Niente Quindi Continuiamo Allora Stavolta andrà Meglio Me lo sento Ragazzi Me lo sento Comunque la musica è davvero chill Cioè Te rilassa Poco una cifra Ciao Ragazzi Cioè Cioè Sicuramente Ok 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 Ma questi Ma le va Ma le va Devo Oh 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 Ecco Ci mettiamo un po' D'acquetta Che dite Allora 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 Ok 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 vai 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 Ci diamo un po' di Ok 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 Vai 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 Ok Le va di Ahia Ok Ok Che non c'ho Comentati sti cosi Li metto qua Io continuo qua a flexammela Che poi a parte che mi dipendo che c'ho niente qua Oh 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 Ma guarda questi Oh Chi sono sti cosi che stanno a sparare Oh Pensa di Oh 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 Mazzi c'è tanti Aia Aia Oh 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 Magari dovrei comprare la pistola un po' più forte Però No No A posso Ciao Chico Vai Dai E vediamo un po' che cosa abbiamo fatto Si Che cos'è questo Cora di più Sconosciuta Aumenta la reazione Ricevi Corbietola E voi chi siete Allora Piccone Semi pianura Grado Bronzo Richiano molta acqua Ma crescono rapidamente Semi Deserto Grado Brano Richiano poco Ma crescono rapidamente No io direi questi qua Vai Beh Sì Io raga Comunque Sono proprio scemo Allora Archibugio Bumi colpi Da vicino Guarda che carino Questo Allora Riproviamo per Quest'ultima volta Vediamo un po' come Me butta Sta botta Che già Non mi ricordo Pi' tasti Ok Oh mi ricorda tipo vagamente Skyrim Sta musica Non so quando Entri dentro Alle locande Allora Allora Mi pianto Tutto Mi pianto Tutto Ragazzi Mi voglio Pianta Tutto No però Questi Cioè A me serve Tipo La vita Ecco un attimo Ecco Vedo subito l'acqua Ragazzi Un attimo Ecco qua Perfetto A posto Oh 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 Calmi Allora Allora Mettiamoci un po' di cosa Flixiamo così Eccoci Metto l'acqua Un attimo Arrivo Vai 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 A posto Allora vai Raccogliamo un po' di semini Magari trovo qualcosa Che buono Ho preso lo spinoso Ho trovato Vabbè Ma ragazzi E' breve Niente Ma chi è Oh 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 Ma chi sei tu Oh 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 ma che Cribbio sei Oh 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 Ma che cos'è Oh Oh ma che Problemi c'hai questo Oh 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 ma levati Oh levati 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 Ma se tipo sconfigo Mi danno un premio Tipo Oh ahia C'è la mese Stanno a magna tutto Bene Dove stai Dove stai Dove levati Levati No ma quanti sono Oh 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 Dove stai quel coso Brutto Levati Regà Non lo vedo più Dove stai Ah ecco suppongo sia quello Oh Dove Oh ma Regà Non lo vedo più Oh Regà Ma levati Beh diciamo che ho fatto un po' Una cavolata Eh però Non lo vedo più No guarda Oh ah No ho trovato pure una nota Che bello 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 Mi piace Mi piace Cioè Quell'altro è tipo Mezzo boss Guarda Yeee Ho flexato i soldi Oh si Che bello Allora ragazzi Io penso Abbiate capito un pochino Come funziona il gioco Ogni volta che finiamo Eh Ritorniamo Qui All' All'inizio Insomma Nella Nella parte centrale Dove possiamo Acquistare potenziamenti La vita Che me serve Questa Adizia qua Furirosa Sta Sconosciuta Ecco qua E E niente Insomma Oh si sa pure il sindaco Beh magari ci potete pure parlare Con questo Invece non ci ho parlato Per niente Va bene Ciao 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 Un rito Affamato Ah Pensate Che bello Che carino Rega una cosa così tenera Oh signore Oddio Ma che sei Tenta pazza Ti blocca le pallotte Le spingi amici vicini Oddio Che carini Siete teneri ragazzi Vi adoro Vi adoro Ancora di più Allora ragazzi Io penso Vi avrei capito Un pochino In sintesi Come funziona Quindi andiamo a vedere Un pochino La La sua scheda Sulle shop Ecco qua Ecco qua Allora vi ricordo Il gioco Atomicrops È in uscita Proprio oggi Su PC Via Epic Game Store E Il gioco Vi segnalo Che era già Uscito In accesso Anticipato Solo che Oggi Esce Alla versione 1.0 Quindi esce In In versione completa Ecco E tale versione Arriverà Quest'oggi Anche su Nintendo Switch PlayStation 4 E Xbox One Il gioco è stato Sviluppato Da Birdbath Games E verrà distribuito Da Raw Fury Allora Fatemi sapere Che cosa ne pensate Questo particolare Roguelike Farming Simulator E Continuate a seguire Gamescore Sui Su tutti i social YouTube Instagram Twitter Dove pare Insomma E Noi invece Ci riaggiorniamo Al prossimo video Ragazzuoli Mi raccomando Ciao Ragazzuoli Ciao 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 Ciao